E amici di investire.biz ben ritrovati con l'appuntamento settimanale dedicato alle strategie operative. Oggi a Trading Turbo 24 andiamo a parlare di petrolio con le quotazioni del greggio che sono all'interno di una trading range così come vediamo dal grafico. Osservando infatti il daily chart si può notare come le quotazioni da diverse settimane siano all'interno di una fase di lateralità con quelli che sono i supporti più importanti posti in prossimità dei 76,40-76,50 dollari al barile ma è proprio l'essersi riportati nel corso dell'ultima settimana in vicinanza di questo livello che permette di guardare con favore a strategie rialziste con un giusto e congruo rapporto rischio rendimento infatti acquisti più aggressivi fatti in prossimità di 76,55 dollari piuttosto che più conservativi fatti in caso di violazioni e accelerazioni oltre le resistenze statiche di breve poste in prossimità di 77,40 dollari permettono di guardare al rialzo con degli obiettivi tecnico-grafici che dapprima porterebbero le quotazioni in area 79,60 ed eventualmente con accelerazioni sopra questa soglia resistenziale ecco che si aprirebbe la strada per un ritorno in prossimità degli 83,12 dollari per barile e proprio parlando di la possibilità di andare al rialzo al ribasso sul petrolio VTI ecco che abbiamo gli strumenti firmati GIMP per quel modo i Turbo 24 sia nella declinazione short che in quella long guardando proprio a quella che è l'operatività che abbiamo individuato per quest'oggi ecco che troviamo diversi livelli di knockout e di leva adatti a prendere beneficio da eventuali rialzi delle quotazioni del petrolio con delle leve anche molto aggressive e volendo non esagerare abbiamo ad esempio degli strumenti con leva 5, leva 6 che hanno un livello di knockout, quel livello che si è toccato porta a zero il valore del certificato molto distanti sia da quello che sarebbe il livello di stop che si avrebbe per questa strategia ossia in caso di ritorni sotto i 75,15 dollari per barile ma al tempo stesso vi permetterebbero insomma di trarre proficuo giovamento da una ripartenza di quotazioni del petrolio VTI e per quest'oggi è tutto noi ci vediamo con Trading Turbo 24 la prossima settimana ogni tanto vi auguro una buona giornata una buona settimana e come sempre buon trading grazie a tutti grazie a tutti